Siamo qui con Agliani, alleandore del Vetralla. Peccato per il risultato, buona partita dalla panchina. Che partita è stata? Dalla panchina, certo, due gol a freddo abbiamo preso e ci hanno tagliato le gambe. Poi abbiamo preso le misure, pure il campo sintetico non siamo abituati, la palla andava veloce. Come abbiamo preso le misure, le potevamo pure ribaltare. Poi comunque mancavano oggi due dimensioni centrali, eravamo un po' rimaneggiati, loro davanti una bella squadra. Poi dopo nel finale un po' di confusione, una cosa in altra, il gioco è stato spezzettato. 5 gol al primo tempo penso che non si erano mai visti, 5 a 4 al primo tempo. Insomma, è stata una partita divertente, peccato perché loro erano sopra noi, con la vittoria andavamo un punto sotto a loro. Potevamo cercare un po' di risalire, però va bene uguale, ci siamo divertiti, impazienza. Grazie, complimenti comunque per la partita e bocca a lui per le prossime. Grazie a voi, grazie. Grazie.